È entrato completamente ubriaco in un discount di Montevarchi ed ha iniziato a molestare clienti e dipendenti. È stato così denunciato a piede libero per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri intervenuti sul posto. È successo martedì sera, protagonista della vicenda, un uomo di mezza età della zona con precedenti alle spalle. A fare la segnalazione sono stati gli stessi lavoratori del piccolo supermercato, ed ha sperato dalle molestie del soggetto che si era anche messo a spostare la merce dagli scaffali. Uno dei due dipendenti, dopo averlo redarguito, è stato addirittura minacciato di percosse dall'uomo che poi è uscito dal discount ma è rimasto fuori appostato con fare minaccioso. A nulla sono valsi nemmeno i tentativi di alcune persone di convincerlo a tornare in sé e rientrare a casa. L'uomo poi, una volta arrivati i carabinieri sul posto, si è scagliato contro uno di loro a suon di frasi minatorie e oltraggiose. I militari sono riusciti a calmarlo e lo hanno infine portato in caserma per gli accertamenti di rito. Quindi è scattata la denuncia.